Il Movimento 5 Stelle sbanca i seggi e stravince le amministrative 2016. Il primo vero ex pluade grillini arriva a quattro anni dalla concreta discesa in campo e le vittorie di Roma e Torino confermano la logica dei numeri. Anche in Sicilia i 5 Stelle non hanno fatto prigionieri, prendendosi al ballottaggio Alcamo, Favara e Porto Empedocle. Nel comune trapanese annunciata era già alla vigilia l'affermazione di Domenico Surdi che, partendo dal già convincente 48% del primo turno, ha chiuso i giochi con il 75% dei consensi, lasciando al 25% lo sfidante Sebastiano Dara. Saranno due sindaci donne ad amministrare i centri agrigentini passati al Movimento. A Favara e Anna Alba vestire la fascia con il 71% e Caroselli in città, battuta la preside Gabriella Bruccoleri, sostenuta anche da PD e Udc. Medesimo risultato per Ida Carmina, che ha confermato le indicazioni del primo turno prendendosi Porto Empedocle con il 71%. Anche in questo caso battuto il PD di Orazio Guarraci e, anche in questo caso, registrato un netto calo di affluenza rispetto a due domeniche fa. A Cattagirone è il centrodestra a vincere con il penalista Gino Ioppolo sugli scudi e il PD costretto ad incassare ancora una sconfitta con Francesco Pignataro. Anche Vittoria si affida al centrodestra, con il successo di Giovanni Moscato, che fa male ad una sinistra che, nel comune ragusano, ha governato negli ultimi 70 anni, ossia dal dopoguerra, prima con PC e PDS, poi col PD. Per i democratici le buone notizie arrivano da noto, con la conferma di Corrado Bonfanti e Canicattì con Ettore Di Ventura, eletto sindaco con oltre 2.500 voti di vantaggio sullo sfidante Ivan Paci, ma che dovrà fare i conti con la bassa affluenza, il 45% degli aventi diritto. Chiudono il lotto dei nove comuni siciliani al ballottaggio i risultati di Lentini, dove il 32enne farmacista Saverio Bosco a festeggiare con il 55% dei voti, e di Giarre, con il risultato a sorpresa di Angelo Danna, che sconfigge Tania Spitaleri, costretta a pagare la spaccatura del PD nel suo comune, con diversi alleati, passati in settimana alla Corte del Neosindaco. ma innovativa, capace cioè di dare risposte diverse.